C'è una data per le elezioni amministrative, l'appuntamento alle urne è per il 3 e il 4 ottobre 2021. Le date sono state fissate da un decreto adottato dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese, che delinea il turno ordinario annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali nei comuni delle regioni a statuto ordinario. La prima domenica e il primo lunedì di ottobre, dunque, gli elettori, anche di alcuni comuni toscani, torneranno alle urne. L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci è previsto invece domenica 17 e lunedì 18 ottobre. In tutta Italia i comuni coinvolti saranno 1.162, tra cui 18 capoluoghi di provincia e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In totale gli elettori interessati saranno così 12.015.276. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo, sono 4 i comuni interessati. Si tratta di Anghiari, Civitella in Valdichiana, Montevarchi ed infine Sansepolcro.